si pronto oh lorenzo ma che si dice a montepulciano tutto bene eh bello c'è un locale bellissimo fantastico si te eri incuriosito di balcamericaos siamo stati due anni fa a fare balcamericaos no balcamericaos c'è ancora gira ancora si è fatto 650 rep in tutta europa da quell'idea lì il titolo a dirlo sembra troppo uguale balcamericaos in realtà è uno spettacolo con un musicista in più in cui non è più uno spettacolo come era balcamericaos a pezzi a storielli a numeri ma c'è una storia c'è un filo conduttore siamo in un'epoca siamo nel 1912 tra la prima guerra balcanica e la seconda guerra balcanica per cui insomma è una situazione in cui con la guerra non puoi fare affari sei costretto a scappare e si racconta di un viaggio sulla nave vera di Callisto Kozulic della casa di Josef Franz si va in America nel 1912 è l'anno del Titanic per cui se nessuno voleva più suonare sulle navi perché portava merda c'era anche questo mito che l'orchestrina aveva suonato fino a un fondo per cui insomma nessuno suonava più questi cinque musicisti slavi si imbarcano e finiscano a suonare nei funerali della mafia a New York e poi a New Orleans e musicalmente è molto bello è anche cambiato rispetto a Balcanicaos perché si parte con la musica balcanica ma si arriva poi alla fusione con quelle che sono le street band americane le marching band insomma proprio a quello che è poi la nascita del jazz e del blues sempre musica di strada è, no, sia la musica balcanica che la musica americana e poi musica di strada la storia è molto bella perché si impara quello che era sbarcare Alice's Islands quello che era essere clandestini, quello che era fare dei lavori insomma c'è una storia di Balcanicaos e rimane semplicemente il fatto che c'è molta musica si ride tanto e il personaggio è sempre quello di Il Buon Soldato Schweck che faccio ormai da 15 anni ecco con cui ho comprato casa per così dire però veramente sono due cose diverse l'uno dall'altro dove siamo già stati con Balcanicaos diciamo che è un tornare che ha molto senso perché tutto quello che ti era piaciuto lo ritrovi negli ingredienti ma non c'è niente che sia un doppione fisarmonica, violino, contrabbasso, canto, pianoforte, sax, clarinetto per cui insomma una grande formazione e io che uso pistole, spari, fuoco, scenografia un po' ci ne è anche, non è come Balcanicaos che è solo musica ma c'è anche degli oggetti di scena è uno spettacolo molto carino abbiamo anche delle belle locandine che ti regalo se tu ce lo compri io più dico sì Lorenzo che ti posso dire ti vengo a dare una mano a fare la vendemmia, dimmi se va bene, via, vediamo se ci si fa dai, forza, forza Lorenzo, forza via va bene, sarò sempre la sua sorella che è sempre molto carina ciao Lorenzo ciao ciao